Mi chiamo Francesco Longini, ho 22 anni e una volta finiti gli studi ho deciso di seguire la mia passione, ovvero di intraprendere l'attività di imprenditore agricolo. Tutto questo è stato reso possibile anche grazie alla Banca della Terra, un'opportunità che dà la regione toscana di mettere in comunicazione i proprietari dei terreni con chi vuole iniziare oppure anche sviluppare un'attività agricola. Ad esempio adesso ci troviamo in un terreno dell'Istituto degli Innocenti preso in concessione tramite la Banca della Terra. Io mi sono trovato molto bene perché dà la possibilità a giovani imprenditori agricoli e anche nonne di avere in concessione dei terreni non solamente in base all'offerta economica ma in base anche alla tipologia del soggetto che li chiede oppure anche in base al loro progetto di utilizzo e di valorizzazione che hanno in mente di sviluppare in tutta la durata dell'eventuale contratto di affitto. Se volete fare come me oppure intraprendere un'attività agricola oppure sviluppare potete consultare il portale presente su Artea a nome di Banca della Terra e per rimanere aggiornati sui nuovi avvisi che settimanalmente vengono inseriti sul sito. Grazie.